Ucraina alvia la conferenza internazionale a Parigi a sostegno alla resistenza civile e l'Europa stanze altri 18 miliardi di euro di aiuti, la Meloni ribadisce pieno sostegno dell'Italia anche militare. Presentato il rapporto Migrantes sul diritto d'asilo, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, i diritti siano uguali per tutti. Il racconto del Natale Aerici tra momenti culturali e celebrazioni religiose, l'occasione per riscoprire arte e tradizioni locali. Buongiorno dalla TG2000, in apertura lo avete sentito l'Ucraina con l'apertura a Parigi della conferenza internazionale a sostegno alla resistenza civile nel paese a cui parteciperà il ministro degli esteri italiani, l'Unione Europea, ha trovato un accordo nella notte e verranno stanziati altri 18 miliardi di aiuti. Leonardo Possati. Il terrore energetico, il freddo, la mancanza di elettricità, acqua, cibo, trasporti, ma anche di servizi sanitari con gli ospedali costantemente sotto pressione. Il popolo ucraino è chiamato a resistere ai russi, sopravvivendo in condizioni proibitive. Qui non si tratta solo di inviare armi, Zelensky continua a chiedere batterie di missili Patriot e altri moderni sistemi di difesa aerea, ma occorre fornire aiuti urgenti che permettono alla popolazione ucraina di superare l'inverno. Per questo, in queste ore, a Parigi i 70 paesi si stanno parlando per trovare soluzioni e dividersi i compiti. Il regista di quest'operazione, il presidente francese Emmanuel Macron, ha fatto sapere che la Francia ha già disposto aiuti per 125 milioni. L'Italia, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, è pronta a fare la sua parte e invierà tonnellate di materiale per permettere all'Ucraina di avere una rete elettrica funzionante. In mattinata sono stati raccolti aiuti per 400 milioni, ma il presidente Zelensky in videoconferenza ha parlato di almeno 800 milioni di euro come aiuto d'emergenza per il settore energetico. Intanto sul campo proseguono i bombardamenti. Nelle ultime ore sette persone sono morte e uccise da bombe russe. Sul fronte diplomatico poi, secondo la stampa russa, che cita come fonte il portavoce del cremino Peskov, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping potrebbero avere un colloquio in videoconferenza entro la fine dell'anno per discutere della situazione in Ucraina. E in Ucraina c'è il nostro inviato Vito De Torre che oggi si trova ad Isium, uno snodo strategico nello scenario del conflitto in corso. Buongiorno Vito. Buongiorno Letizia, buongiorno a tutti i telespettatori. Mi trovo ad Isium, città che ha vissuto sotto l'occupazione russa per ben sette mesi e che continua ad essere bombardata senza sosta. Alle mie spalle in questo palazzo distrutto, preso a cannonate dai cararmati russi, sono morte ben 46 persone. Questo è totalmente devastato, questo edificio residenziale. Isium si trova lungo la strada che porta a Bakhmut, la linea di fronte più violenta in questo momento. Non è distante, non è molto distante da qui, circa 30 minuti in auto e proprio venendo qui ad Isium abbiamo visto lungo la strada numerosi convogli militari diretti al fronte. Tutte le persone che abbiamo incontrato questa mattina ad Isium erano ancora sotto shock, sotto shock per questi sette mesi di occupazione russa. Dicevamo a Bakhmut, che è la linea di fronte in questo momento più violenta, dove si sta combattendo metro dopo metro, si registra l'avanzata dell'esercito russo che ha occupato in parte la zona sud-est di Bakhmut. Lì si decide una parte di questo conflitto delicatissimo che punta, la Russia punta, a conquistare il Donbass. Donetsk è a pochi chilometri da dove ci troviamo, da Isium. È tutto per il momento da Isium. Gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del telegiornale. Grazie, grazie a Vito De Torre, fieri del sostegno al popolo ucraino. L'Italia continuerà a fare la sua parte anche dal punto di vista militare. Si lavora ad una collaborazione ancora più stretta con la Nato, lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera, questa mattina in vista del Consiglio Europeo. Augusto Cantilmi. Dalla dimensione politica a quella militare, dal fronte umanitario a quello economico finanziario. In coerenza con lo sforzo dell'Unione Europea, della Nato, delle altre nazioni a noi vicine, il Governo ribadisce il suo pieno appoggio a Kiev in tutte queste dimensioni interconnesse. Così alla Camera dei Deputati, la Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni in vista del vertice europeo di giovedì e venerdì, per Meloni serve un'Italia presente nelle scelte più difficili, a cominciare dal sostegno anche con le armi all'Ucraina contro l'aggressione russa. In gioco non c'è soltanto il futuro di Kiev, ma tutta l'Europa e il primo passo è il raggiungimento del cessate il fuoco, condizioni necessarie poi per ottenere la pace. Ma sull'invio delle armi a Kiev in discussione in Parlamento, contrarie ancora una volta i 5 Stelle. O se non invidi armi all'Ucraina, almeno questo. Adesso ci sentirete. Quindi è un no. Dal Governo la condanna per le violenze in Iran, ingiustificabili e inaccettabili. Quindi il capitolo immigrazione per Meloni si deve passare dal processo di redistribuzione dei migranti alla difesa comune dei confini dell'Unione, per favorire così i flussi legali e contrastare quelli illegali. Per quanto riguarda le conseguenze della guerra, Meloni punta i piedi contro le non scelte di Bruxelles nel fissare un tetto comune al prezzo del gas. Una iniziativa comune Italia Santa Sede per trovare una via diplomatica, la soluzione del conflitto in Ucraina, un incontro per parlare e promuovere la pace alla luce dello spirito di Helsinki si è svolto oggi a Palazzo Borromeo a Roma. Un convegno che si inserisce nella scia delle parole del Presidente della Repubblica italiana e di Papa Francesco. Entrambi hanno citato la conferenza internazionale di Helsinki e i suoi principi che contribuirono alla distensione in Europa, codificando dei punti fermi sul dovere di rispettare i confini degli stati e di risolvere le controversie con la diplomazia. Si apre invece a Washington, sempre oggi un vertice tra Stati Uniti e Africa, al quale parteciperanno una quarantina di capi di Stato e di governo africani. Sul tavolo l'aumento degli investimenti americani in Africa, con l'obiettivo di recuperare posizioni sulla Cina, che rimane il maggiore investitore nel continente africano. Ma si parla anche di intensificare i rapporti pubblico-privato per dare più slancio all'economia africana e per rispondere alle esigenze di finanziamenti dei progetti infrastrutturali stimati tra i 68 e i 108 miliardi di dollari. E proprio sulla complessa questione economica africana abbiamo sentito Matteo Giusti della rivista Limes. Il secondo vertice degli Stati Uniti dedicato al continente africano è un tentativo da parte dell'amministrazione Biden di recuperare dopo gli anni di assenza dell'amministrazione Trump. In questo lasso di tempo, ben otto anni in cui gli Stati Uniti hanno fatto passi indietro importanti nel continente africano, sono stati la Cina in primis insieme a Russia, Turchia e i paesi del Golf a diventare i veri dominatori del continente africano. La Cina investe quattro volte di più di quello che investe gli Stati Uniti, ma ha fatto diventare l'Africa un suo mercato sia di acquisto che di vendita. Nel frattempo i grandissimi prestiti infrastrutturali del gigante cinese hanno strangolato nella trappola del debito il continente africano e adesso Pechino controlla grandi pacchetti di voti in tutte le agenzie onusiane e sembra una china irreversibile dove un continente chiave per gli equilibri geopolitici mondiali come l'Africa è saldamente nelle mani, o meglio, nelle fauci del dragone. Si allunga lo scandalo tangenti dal Qatar all'Unione Europea, sequestrati 750 mila euro all'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Kylie, altri 17 mila sono stati trovati in casa dell'ex euro deputato Panzeri. Domani prima udienza per i quattro arrestati, sigilli all'ufficio di Giorgia Strasburgo, nuove ombre anche sulla Commissione Europea. Nel mondo i rifugiati sono 103 milioni, una cifra record, senza precedenti pare ad un abitante su 77 più del doppio di dieci anni fa e questo è solo uno dei dati del rapporto migrante. Sa seguire la presentazione c'è per noi Nicola Ferrante. Buongiorno Nicola. Buongiorno Letizia, dalla Gregoriana qua si sta svolgendo la presentazione del rapporto sul diritto d'asilo che stringo tra le mani, lo vedete, la guerra in Ucraina come un evento dirompente che nell'ultimo anno ha disperso in Europa milioni di rifugiati, alcuni numeri relativi soltanto all'Italia, visto che tu citavi quelli del mondo, tratti appunto da questo odierno report, 296 mila rifugiati, 45 mila richiedenti asilo, raddoppiati a 18 mila ai minori non accompagnati, 1800 fra morti e dispersi nel Mediterraneo che si conferma dunque un mare, cimitero, capitolo accoglienza e un'Europa solidale sì, ma a senso alternato con rifugiati di serie A e rifugiati di serie B. Lo ha ribadito anche il cardinale Zuppi alla presentazione per gli ucraini, porte aperte per chi invece fa naufragio, porti chiusi per entrare, e cito il rapporto, bisogna essere biondi e altrimenti appunto si resta fuori. Accennavo alla presenza del Presidente della CEI, lo abbiamo interpellato sulle nuove norme annunciate dal Governo su accoglienza e illegalità, lui ci ha risposto così, lo ascoltiamo poi dalla Gregoriana, linea allo studio. La legalità è una cosa importante, non c'è dubbio, anche perché poi l'illegalità vuol dire far guadagnare chi lucra su questo e vuol dire anche che muore un sacco di gente, e quindi vediamo questi provvedimenti che pare che siano in cantiere, per esempio tutto il tema dei flussi di cui ne abbiamo bisogno straordinario, quindi aiutiamo per combattere l'illegalità, dobbiamo garantire la legalità e quindi speriamo che i provvedimenti vadano nella direzione di rispondere a una necessità, la forza lavoro e garantire sempre i diritti. Maxi operazione dei carabinieri in tutta Italia con due operazioni contro l'Andrangheta, militari del gruppo di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria, hanno eseguito 65 arresti di cui 47 in carcere, 13 di cui 12 in carcere, quelli eseguiti dai Ross di Brescia, le cosche colpite sono Bellocco di Rosarno, gli Spada di Ostia e l'Amari, la rosa pesce della piana di Gioia Tauro. Ed ora una notizia che riguarda la Ferrari, Fred Vasseur entrerà a far parte della scuderia Ferrari il 9 gennaio come team principal e general manager, lo annuncia la casa di Maranello Vasseur, ex team principal dell'Alfa Romeo e CEO della Sauber Motorsport, un'esperienza di oltre 25 anni di successi nelle corse automobilistiche, subentra Matteo Binotto che ha rassegnato le dimissioni qualche settimana fa. Ed ora parliamo di Natale perché si avvicina ormai la festa e tutta l'Italia si accende in piccoli e grandi centri, con Clara Aietosti siamo andati a Erice in Sicilia, vediamo. E' la musica delle zampogne ad introdurci in uno dei borghi più belli d'Italia, Erice si veste letteralmente di Natale, esponendo nei suoi angoli più suggestivi i presepi, grandi e piccoli, realizzati dai residenti. Un porticato, un davanzale, una macina si trasformano in sfondi per le rievocazioni della nascita di Gesù, coinvolgendo tutti lungo un percorso tra vicoli e piazzette. E poi mercatini, artigianato, spettacoli di pupi, degustazioni, sport e mostre fino all'8 gennaio. Secondo Tucidide, Erice fu fondata da esuli troiani che fuggendo nel Mediterraneo avrebbero trovato il luogo ideale per insediarsi. Un docufilm racconterà gli ultimi scavi archeologici al Castello di Venere e alle Mura. Senza dimenticare la 26esima edizione del Festival Internazionale di Musica Antica, con oltre 18 concerti nelle chiese del Borgo Medievale, dove i più piccoli potranno incontrare anche Babbo Natale nella sua casetta. Ai mondiali di calcio del Qatar si torna in campo per la semifinale, la prima semifinale del torneo. Questa sera l'Argentina di Messi gioca contro la Croazia di Modric Reduce dall'avere eliminato il Brasile. L'attesa però è per Marocco-Francia di domani, mercoledì 14, nell'altra semifinale. E con questo è tutto, vi lascio al meteo a terza pagina. E allora Solare, grazie per averci seguito e a più tardi.